La guardia di finanza del gruppo di Torre Annunziata ha sequestrato un'arma da fuoco modificata e una mazza da baseball priva di protezione a due persone residenti a Poggio Marino in provincia di Napoli. Durante un'operazione contro i reati contro la persona i finanzieri hanno perquisito l'abitazione di padre e figlio, entrambi con precedenti penali scoprendo anche il possesso di uniformi delle forze di polizia. Oltre alle armi sono state trovate divise complete, abbigliamento e accessori vari che sono stati sottoposti a sequestro. Nello specifico sono state sequestrate due divise complete, una giacca a vento e tre berretti. E' stato rinvenuto inoltre un borsone contenente maglioni, cravate, camicie, scarpe e nonché vari gradi militari. Padre e figlio hanno già numerosi precedenti penali. I responsabili sono stati denunciati anche per vari reati ulteriori, inclusa la detenzione illegale di armi e il possesso di segni distintivi delle forze dell'ordine. Grazie. 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 Grazie.